Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze grazie, energetiche generali per la prima parte del 2023 e abbiamo il sole. Si parla di espansione, si parla di genuinità, di amicizie, di tutto quello che è la sfera sociale anche un po' se vogliamo. Quando c'è il sole c'è anche un riferimento ai bambini, alla fanciullezza, alla gioventù, a tutto quello che è l'impulso della crescita, diciamo così. Forse questi sono un po' troppi, sono 5, datemene uno solo, grazie. Wow, carta numero 4, potere superiore. Ma che belle carte! Allora, il potere superiore fa riferimento, non so se ci avete fatto caso, c'è una chiave qui sul terzo occhio e una luce che esce. Fa riferimento a quello che si sa, a quello che viene alla luce, alla vostra chiarezza mentale, a quello che riuscirete a vedere, diciamo anche tra le righe secondo me. Ma andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso volete avere un messaggio più completo, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Nel caso vogliate contattarmi, sotto nella descrizione trovate il mio indirizzo email e per quello che riguarda la lettura l'ho ampliata rispetto a quello dell'anno scorso. Quindi saranno 20 carte in totale e andremo a vedere, diciamo, il lato spirituale, come si evolverà, il lato affettivo e poi quello dell'economia e del lavoro e qualche consiglio finale. Allora, abbiamo la carta del matto, il fante di pentacoli, il 5 di bastoni, l'8 di bastoni, scusatemi, si stanno staccando le carte, e il 10 di spade. Ok, allora, quei ragazzi il sole parla di espansione proprio da un punto di vista spirituale, perché abbiamo la carta del matto, è una carta di inizio, di partenza. Vi dico che molte persone intraprenderanno un nuovo percorso di studi a livello personale, a livello spirituale, a livello magari anche esoterico, anche se sento che più è proprio una di quelle cose che avete bisogno di imparare, che avete bisogno di studiare, che avete bisogno di capire, di interpretare, e comunque quando c'è il matto c'è sempre questa voglia di nuove avventure, di nuovi percorsi, è l'impulso che vi fa vibrare, diciamo così. Sento che un po' ce l'avete di indole, che siete persone comunque curiose, entusiaste, però c'è proprio questo richiamo all'andare oltre in questa prima parte del 2023. Molto credo che farà leva su quello che è la comunicazione, quindi come comunicate a voi stessi, quindi il modo di parlarvi, come volervi bene, come amarvi di più, e anche per quello che riguarda la comunicazione con l'esterno, con gli altri, con chi vi sta intorno, insomma. Guardate, si inizia la lettura con una carta che parla di inizi e si finisce la linea con una carta che parla di chiusure cicli. È come se nel mezzo facesse questo salto, questo gradino, questo percorso. C'è comunque un 5 di bastoni, parla di competizioni, parla anche di battagli interiori, perché qui si parla della vostra crescita spirituale. Ma sento che bisognerà, come vi posso dire, lavorare prima su quello che si vuole, attraverso la chiarezza mentale, per poi saperlo comunicare meglio agli altri e terminare, diciamo, un certo ciclo di, come vi posso spiegare, di competitività che c'era, in un certo senso. Andremo poi a vederlo man mano nel dettaglio, ok? Però ho come la sensazione che qui qualcuno farà, come vi dicevo, proprio il salto, perché abbiamo anche il sole. Credo che potrebbe essere anche l'approcciarsi a qualche hobby, magari, sì, qualche lavoro, qualche professione, qualche t... mi parlano di volontariato, quindi per qualcuno potrebbe essere proprio quello, che in qualche modo vi fa rivivere, mi verrebbe da dire, delle lotte interiori. C'è qualche cosa a cui vi approcciate nel 2023, che in qualche modo, appunto, vi scuote, vi fa fare quel salto, vi va a toccare delle corde, che farà sì che voi migliorerete la comunicazione, sia con voi stessi che con gli altri, insomma. Questo è un po', diciamo, in via generale. Andiamo a vedere per quello che riguarda le relazioni. Abbiamo un 8 di pentacoli al contrario, un 7 di pentacoli, la carta della stella, la regina di coppe, poi abbiamo un asso di bastoni la carta del mondo al contrario. Dunque, partiamo con questo 8 di pentacoli. Guardate, sento che in qualche modo questo matto influenza un po' anche quello che è l'attività, i movimenti energetici sulle relazioni, perché c'è qualche cosa qui, con questo nuovo inizio, con questo, come vi dicevo, impulso che fa sì. Avete anche 7 di pentacoli al contrario. C'è una sorta di impazienza in qualche tipo di cambio, in qualche tipo di novità, probabilmente proprio in questo nuovo inizio. Guardate, per qualcuno si può trattare veramente di un bisogno di spostarsi per iniziare questo percorso, ok? Perché deve cambiare qualche cosa, o comunque c'è qualche cosa inerente alla vostra quotidianità, che siete impazienti di cambiare, impazienti di... di veder muovere, diciamo così. Avete comunque la carta del sole, qui si parla di qualche cosa che va verso l'espansione. Abbiamo anche la carta della stella, e qui si parla di sogni, di desideri, di quelli che sono gli obiettivi. probabilmente avete diversi piani, mi verrebbe da dire che ci sono diverse cose in ballo, sia da un punto di vista familiare, che di crescita spirituale, potrebbe essere un nuovo passaggio, un nuovo ciclo della vostra vita che si sta aprendo nel 2023. Però ripeto, avete il sole, si va verso l'espansione. Ok, abbiamo poi una regina di coppe, un asso di bastone al contrario, e la carta del mondo. Allora, ragazzi, qui quello che voi state cercando di fare, sento che in realtà, avendo queste carte, che sono inizio e chiusura ciclo, girata al contrario, inizio e chiusura ciclo, è come se da un punto di vista, diciamo, un po' globale, perché sento che influenza anche voi stessi, e poi andiamo a vedere dopo con il lavoro, però credo che sia più un inizio da un punto di vista, diciamo, pensativo, piuttosto che fisico, perché qui c'è qualche tipo di difficoltà a livello pratico, da un punto di vista relazionale proprio, o familiare. Ok? Guardate, se si trattasse di bambini, nel senso che per qualcuno il sole potrebbe rappresentare appunto i bambini e la ricerca dei bambini, sento che c'è una... ovviamente non va a risuonare con tutti, però c'è una sorta di difficoltà nel rimanere incinta, mi verrebbe da dire. Ma più che una difficoltà da un punto di vista fisico, nel senso che non credo sia perché ci siano dei problemi, è una difficoltà da un punto di vista pratico, suppongo, perché abbiamo l'otto di pentacolo e il contrario. Magari si fanno i turni, si sballa il corpo, si sballano gli orari, non ci si trova. Però ecco, sento che per qualcuno il pensiero potrebbe anche essere lì, in questo periodo, diciamo così. Per quello che riguarda invece, se avete già figli, sento che, insomma, si parla di un periodo di espansione anche per loro, perché comunque risuonano un po', vibrano un po' anche della vostra energia. Potrebbe esserci qualche scaramuccia, ragazzi, potrebbe esserci qualche tipo di bisticcio, perché comunque mi viene sotto questo 5 di bastoni, però tutto sommato niente di grave, insomma, sono cose di poco conto. La regina di coppe ci parla di quello che è il vostro stato emotivo, che viene un po', diciamo, influenzato da questo nuovo studio, di un nuovo percorso interiore, e nuova, diciamo, anche dedizione alla comunicazione che avete con voi stessi, ok? Per qualcuno si tratta di diventare onesti nel perché voglio diventare madre o padre, perché sento questa esigenza, perché, o come anche voglio vivere la maternità, piuttosto che la paternità, perché il sole è young, quindi energia maschile. Diciamo che l'inizio, cioè questo nuovo ciclo, in questo momento si vede più da un punto di vista spirituale e energetico che non da un punto di vista, diciamo, concreto nelle energie intorno a voi. Tutto sommato, però, vi dico, se avete già una famiglia, diciamo, creata, vostra, le cose non vanno male, c'è forse un po' di impazienza, appunto, nel caso abbiate progetti nuovi, nel caso vogliate spostarvi, nel caso vogliate traslocare, nel caso vogliate cambiare lavoro, c'è parecchia impazienza con questo set di pentacoli, al contrario, ma veramente, avete comunque la carta del mondo, è al contrario, quindi non c'è ancora quel tipo di movimento, ma comunque è nella lettura, quindi l'energia c'è. Il punto è che qui non fate un'azione concreta con questo asso di bastone girato al contrario. Vi faccio presente che, adesso vediamo poi le altre linee, però comunque 10 asso e carta di compimento, che è un 21, carta di chiusura cicli anche lì. Quindi c'è qualcosa qui che probabilmente fate fatica a lasciare indietro, a staccarvi da questo qualche cosa. Abbiamo una regina di spade, il carro al contrario, abbiamo una morte, due di pentacoli e tre di bastoni al contrario. Allora ragazzi, direi che, allora da un punto di vista lavorativo e dell'economia, di nuovo, qui sento che c'è qualcuno che vorrebbe cambiare qualcosa, perché ho due carte che indicano spostamento, movimento, cambiamento, il prendere una decisione, che sono comunque girate al contrario. Quindi c'è una sorta di impossibilità, probabilmente, a spostare la sede del lavoro, a spostarsi per il lavoro. Potrebbe esserci una persona di cui vi dovete occupare, che non vi permette di stare via per molto tempo, quindi non vi permette di magari fare quei lavori dove si va via lunedì e si ritorna alla domenica, o anche il lavoro su turni, mi dicono, per voi diventa difficile. Chiaramente non risuona con tutti, però sento che ci sarà una sorta di difficoltà nella vita pratica, nella vita quotidiana, un attimino a incastrare un po' tutto. La regina di spade è qui per consigliarvi di fare un programma, di trovare un vostro metodo, di organizzare, di pianificare e molte volte la regina di spade, perché avete anche la morte qui, parla di tagliare quello che non serve più per la vostra evoluzione. Qui c'è qualche cosa e io credo che, guardate, per qualcuno mi parlano di un orto, un orto, comunque qualche tipo di attività all'aperto che bisognerebbe lasciarsi indietro per evolvere, per andare avanti nella carriera, nel lavoro, in quello che è questo spostamento, ditemi poi voi nei commenti che cosa dovete lasciare indietro, perché è qui la regina di spade per voi, insomma. Allora, poi abbiamo la carta della morte e qui anche si parla di rigenerazione, si parla di rinascita, sento che ci sarà un cambio, ragazzi, si inizia a intravedere la luce, diciamo così, sia da un punto di vista lavorativo che da un punto di vista economico, più economico, se vogliamo, perché lavorativo siete ancora un po' lì con queste due carte al contrario che secondo me c'è qualche tipo di cambio che siete obbligati a fare o che sentite di dover fare per dare anche uno scossone a quello che è la vostra indipendenza economica, c'è bisogno di uscire da una sorta di alti e bassi. Guardate, le carte in realtà vi dicono che questo non spostamento non è poi così negativo, è come se riuscisse a rendervi conto, a vedere, a canalizzare, a sentire questo potere superiore. Io credo che il restare lì dove siete o in quella determinata situazione, in quel determinato percorso di studi che potenzialmente potrebbe portarvi all'espansione perché vi ricordo che comunque il mondo c'è, insomma, vi potrà dare veramente secondo me l'occasione di vedere le cose, di ricominciare da capo da zero perché il matto è l'arcano numero zero, da lì dove siete avendo più chiarezza mentale non c'è bisogno di stravolgere completamente la vostra realtà fisica, l'importante è stravolgere la realtà mentale, poi quella fisica arriva, ma si va verso, perché comunque il 2 di pentacoli parla sempre di alti e bassi finanziari e al contrario si va verso l'appianamento si dice, comunque stiamo per appianare ecco gli alti e bassi finanziari, ok? Non vedo grosse espansioni sinceramente nel caso abbiate un'attività autonoma, anzi forse un pochettino di contrazione, ma non è un male, non ci sono perdite economiche se è questo che ma sì ci saranno tagli per rinvigorire un attimino la situazione a livello economico che sia familiare o che sia dell'azienda e comunque non è solo strettamente a livello economico la situazione cioè scusate a livello lavorativo la situazione economica riguarda sia il lavoro che la gestione della casa, delle proprietà, insomma un po' tutto ecco ok andiamo a vedere un'ultima linea per vedere che messaggio vi danno ancora allora abbiamo un cavaliere di spade al contrario la carta della temperanza un 3 di pentacoli un 6 di pentacoli vediamo che altro un asso di spade al contrario e la regina di denari allora ragazzi qui vi dico abbiamo il cavaliere di spade al contrario ok sento che piano piano poco per volta diciamo così a intermittenza inizierete a fare il lavoro della regina di spade cioè a tagliare quello che non vi serve più ad avere maggiore chiarezza mentale ad andare verso un equilibrio psicofisico avete la temperanza la temperanza è proprio l'equilibrio la guarigione qui si parla proprio di guarigione anche da un punto di vista clinico se per caso state facendo qualche tipo di terapia piuttosto che di riabilitazione nel 2023 ritroverete un'armonia proprio da un punto di vista di corpo mente e spirito ok per quello che riguarda questi studi di cui parlavamo prima la crescita interiore la capacità di comunicare sento che in questo senso vi aiuteranno molto gli amici i progetti fatti insieme i sogni gli obiettivi è come se vi dessero quella nuova quella nuova come si dice scintilla che è un po' l'asso di bastoni che in questo momento è girato al contrario per avere per raggiungere quella chiarezza mentale che vi serve fondamentalmente che che state cercando verso la quale andate per quello che riguarda invece diciamo sì gli incontri i nuovi incontri le persone utili e quelle cose lì vi sento un po' chiusi rispetto ai nuovi incontri ma perché siete ancora in una fase di chiusura cicli precedenti diciamo così poi vi dirò se siete single può essere che si avvicini una persona molto come vi posso dire aperta molto amorevole anche giovanile una persona che insomma sa mettersi nei panni dell'altro una persona che è disposta ad ascoltare che è disposta a a esserci questo sì non rispecchia per molti ve lo dico sinceramente poi andiamo a vedere mano a mano ma perché perché fondamentalmente siete ancora tante persone sono focalizzate dentro di sé quindi diventa difficile poi aprirsi ok a nuovi inizi chiudere bisogna prima chiudere il ciclo precedente e in questo momento davvero anche con questa energia qui vi sento un po' improntati a fare il punto della situazione della vostra della vostra vita c'è qualcosa a livello quotidiano a livello familiare a livello di c'è qualcosa che è necessario prendere la decisione per lasciare indietro e guardate che abbiamo il carro e la temperanza quindi una volta che si riesce a fare questo tipo di scelta questo tipo di decisione sento che si raggiunge quello che è l'equilibrio di cui ci parla la temperanza nel caso siate senza lavoro e ragazzi potrebbero esserci dei nuovi inizi ma sento che avete bisogno un po' di reinventarvi perché c'è la morte quindi avete bisogno di rinascere se no questo mondo questo cambiamento positivo questa azione non parte fondamentalmente ma sento che prima il rinnovamento come vi dicevo già all'inizio deve essere interno deve essere prima da un punto di vista spirituale poi una volta che si cambia il cip interno anche esternamente cambia tutto a livello vibrazionale ok abbiamo la carta della torre la carta della morte wow che qua si chiamano il fulmine nella trasformazione e esaurimento si ragazzi qui avete bisogno assolutamente di affrontare questo cambio questo taglio quando c'è la carta della torre qui si tratta di qualche come vi posso dire ridimensionamento dell'ego qui può essere che ci fossero obiettivi un po' troppo alti o che ci siano obiettivi un po' troppo alti e che facendo questo tipo di lavoro vi renderete conto che dovete un attimino cambiare il vostro modo di vedere il mondo o dovete cambiare il vostro tipo di obiettivo ridimensionare più che cambiare mi verrebbe da dire di nuovo abbiamo la carta della morte c'è qualche tipo di rigenerazione interna che andrete a fare sia da un punto di vista lavorativo e sento che è come vivrete il lavoro come vivrete l'ambiente di lavoro come vivrete il vostro stato magari di alto e basso economico diventerà più leggero non so sento che avrete questa maggior fluidità nei confronti della vita è come se foste più in pace con voi stessi come vi spiego questo imparare a parlarvi meglio imparare a volervi più bene questo studio questo processo percorso di crescita che state che andrete ad effettuare vi darà una miglior pace interiore ricordiamoci che quando c'è il sole si parla anche di bambini interiore quindi per molte persone si tratta di proprio quello curare il bambino interiore e qui lo vediamo anche con il mondo e il matto quindi qui sarà una trasformazione profonda ragazzi andiamo a vedere con le fatine che cosa vi dicono autenticità e qui si tratta di togliersi la maschera inizio ve lo metto qua vicino al matto e umiltà e ve lo metto qui vicino alla torre sì sì perché alle volte io voglio che ci frega perché non sempre quello che noi vogliamo è quello che ci serve o che serve la nostra anima per la nostra evoluzione di conseguenza magari l'universo non ce lo dà non ce lo fa arrivare e noi continuiamo magari a fare manifestazioni visualizzazioni quella cosa non arriva e perché non è per noi certe volte bisogna semplicemente accettare fare un po' come l'appeso arrendersi all'evidenza dei fatti ok andiamo a vedere un ultimo messaggio questi sono i koan sono dei messaggi tibetani che vi leggo e su cui potete fare delle meditazioni insomma queste sono troppe solo una per piacere grazie se no guardate questa qui opla il vecchio stagno una rana che salta plop bellissimo vecchio stagno ci dà l'idea di qualche cosa di stantio che ristagna una rana che salta che fa un movimento che indica che in realtà non è così vecchio non è così stagnante ma c'è vita c'è qualche cosa che ricomincia qui nella carta del matto fa vedere che sotto ha l'acqua e il disegno in realtà questa è una forma di geometria sacra però il disegno fa un po' ricordare quando tipo la rana si butta nello stagno e si formano i cerchi concentrici dell'acqua no? è un inizio wow che bel messaggio ve lo metto qui amici della bilancia questo è quello che avevo per voi spero che comunque la lettura vi sia stata utile io vi ringrazio di avermi accompagnato fin qui vi ringrazio del supporto che mi date sempre se volete continuare a supportarmi potete sempre mettere un like iscrivervi condividere commentare o fare una donna una donazione per me ogni tipo di aiuto è importante io vi auguro davvero un inizio del 2023 splendido vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao